In questo video faremo il test dei Magnum Big Boom della Pyrotop, 20 pezzi la confezione, 0,15 grammi per pezzo e quindi 3 grammi totali. All'interno sono abbastanza grandi, dimensione classica dei Magnum, li potete vedere, eccoli qua, belli grandicelli, anche se la grammatura in fondo in fondo è quella di un raudo perché sono solo 0,15 grammi. Iniziamo con i Big Boom, che fra il resto soltanto a me ricordano un botto i Super Magnum dei Razzi Group. Un botto me li ricordano. Stessa azienda, chi lo sa. Non male, dai. 0,15 buoni. Sì, carini, degli ottimi 0,15, devo dire che mi aspettavo di peggio.